Termina con una vittoria la pre-season della Pallacanestro Roseto, battuta con un perentorio 105-83 Latina, con pagine che Sacchetti e compagni ritroveranno poi in campionato. Quattro vittorie di una sconfitta con Casale Monferrato, il quadro delle amichevoli per i biancazzurri, soprattutto le ultime due gare, molto convincenti, non a caso arrivate davanti ai suoi tifosi, oltre 700 gli spettatori nelle due gare sugli spalti. Bilancio positivo quindi fino ad ora per la Leo Filkem, che sabato alle ore 16 e 15 sarà di scena al Palamo Digliani di Livorno per la semifinale di Supercoppa LNP contro Erons Montecatini dell'ex Dimitri Kluznik. Banco di prova importante perché arriverà ad una settimana dall'inizio del campionato, ma soprattutto in palio il primo trofeo stagionale. Si affrontano due team che lo scorso anno hanno sfiorato la promozione in A2, i Toscani perdendo la finale con Avellino e che in estate come Roseto hanno allestito un roster importante per cercare nuovamente la scalata. Detto di Kluznik, Erons che si affiderà al duo Chiera-Arrigoni, senza dimenticare il giuliese Emanuele Trapani, arrivato da Orzinuovi. Per Roseto, Donadoni e Guaiana appaiono già in grande forma, Sacchetti praticamente sempre in doppia cifra e con Austi Kalnis, già ambientato nel Lido delle Rose. In dubbio rimane Edoardo Tiberti out nelle ultime gare, si deciderà probabilmente nei minuti prima del match. Squadra che partirà venerdì alla volta di Livorno, con un gran numero di tifosi al seguito. Saranno infatti oltre 130 i supporters rosetani alla volta del Palamo Digliani.